Le differenze per una donna sposata e invece una donna convivente sono sicuramente molte in quanto parliamo di separazione con i figli. In Italia il matrimonio tutela ancora molto di più rispetto alle situazioni di convivenza, la donna che normalmente è la parte più debole economicamente. Intanto la competenza per quanto riguarda le separazioni è esclusivamente in caso di convivenza quella del Tribunale dei minori, non è il Tribunale ordinario, proprio perché l'unico elemento ad essere trattato dalla giustizia in questo caso è il minore, i minori che nascono dalla convivenza. Quindi ad esempio l'assegno viene parametrato esclusivamente sulle necessità del figlio che è nato dal rapporto tra due persone conviventi. Non vi sarà per la donna e quindi per la parte normalmente più debole economicamente alcun riconoscimento di assegno, di mantenimento, anche se la donna non lavora, anche se la donna è in forti condizioni di difficoltà economica. Non vi è nemmeno il diritto alimentare, quindi proprio quel supporto minimo che potrebbe derivare dal, che invece deriva normalmente dal matrimonio. Quindi sicuramente c'è ancora una situazione di debolezza molto marcata per le donne e per le persone che vivono in condizioni di convivenza. Bisogna auspicare che al più presto ci sia una legge che possa equiparare queste posizioni.